Dedicato a te, Giovanni Paolo II, un Papa tanto caro, coraggioso e santo, sei stato scelto proprio da Maria, Maria, il Tempio Divino dove risiede l'Onipotente, ed è con lei che con amore immenso stai conducendo il popolo di Dio verso le alte vette del Regno Eterno, addio la lode e la gloria nei secoli. Sei stato scelto da Maria perché hai avuto tanta fede in lei ed hai capito che nessun qua giù senza di lei può giungere a Gesù. Sei stato scelto da Maria, Maria che vive sempre accanto a te, Maria che senza sosta guida i passi tuoi, che pellegrino vai per il mondo e in ogni lingua canti la speranza. Sei stato scelto da Maria, gli hai detto totus tuus con umilità, hai detto sì alla verità, servo fedele della Trinità. Giovanni e Paolo non ti fermerai, di fronte al mal non indietre girai, ma con coraggio e fede compirai questa missione che per te ha deciso il cielo, sei stato scelto proprio da Maria. Giovanni e Paolo non ti fermerai, di fronte al mal non indietre girai, ma con coraggio e fede compirai, questa missione che per te ha deciso il cielo, sei stato scelto proprio da Maria. Sei stato scelto da Maria, gli hai detto totus tuus con umilità, hai detto sì alla verità, servo fedele della Trinità. Giovanni e Paolo non ti fermerai, di fronte al mal non indietre girai, ma con coraggio e tanta fede darai gloria a Dio perché perché sei stato scelto da Maria. Perché sei stato scelto da Maria. e la mia che sei stato scelto da Maria. E la mia Grazie a tutti